Gentile direttore Le scrivo da lontano Io sono un giovane scrittore Di romanzi, sa? Scrivo le storie di Chi sta meglio di me E per un attimo Mi sento più felice Volevo chiederle Se mai Fosse disposto a prendermi Dicendo non la deluderò Le mando questa storia Che come noterà Non è un inizio né una fine Ambigue emozioni Colpini scena che Farà girare la testa Come un'enorme giostra Le sembrerà di viverla Sarà così forte e tormentata Che più pace non le darà E per un attimo E se per caso Questa storia Le ricordasse un po' Sua vita Si è certo Lei non si sbaglierà No, 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 no E se per caso E se per caso Grazie 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 Grazie